Continua a far discutere, non senza polemiche, la scelta del sindaco di Urtona di assegnare il premio 28 dicembre a Rocco Sifredi, nato nella cittadina adriatica 58 anni fa. Sul caso intervengono anche i centri antiviolenza Donne e Non Sei Sola, che pur non mettendo in discussione l'impegno lavorativo di un concittadino diventato icona internazionale, aprono una riflessione sul modello che Sifredi possa rappresentare. Con il personaggio scelto, sostengono le associazioni, si lascia spazio ad una visione di corpo oggetto, usato, abusato della predominanza maschile sul femminile. Il sindaco Leo Castiglione precisa nulla contro le donne ed il premio non sdogana la pornografia, difende la sua scelta. Un ortonese doc che è nato in un quartiere di Urtona e che nel suo campo non ha mai perso le proprie radici, ha sempre parlato di Urtona. Quindi abbiamo ritenuto tutta l'amministrazione ha ritenuto di dare un riconoscimento che forse arriva a fine carriera di Rocco Sifredi, ma meglio tardi che mai. Quali sono le motivazioni di questo riconoscimento e qual è la dinamica per arrivare a individuare il personaggio? Sì, c'è un regolamento che prevede che entro il 31 luglio di ogni anno i consiglieri o il sindaco facciano presenti delle candidature appunto per gli ortonesi che si sono distinti nel proprio campo, nel mondo e a livello nazionale e internazionale. Siccome quest'anno, subito dopo le votazioni, probabilmente non sono pervenute candidature, ho applicato il regolamento e quindi ho deciso, insieme a tutta l'amministrazione, di conferire a Rocco Sifredi questo premio. Il premio, la motivazione principale, è quella che si dà questo riconoscimento all'ortonese che nel proprio campo, nell'arte, nella cultura, nell'attività professionale, ha portato alto il nome di Ortona e soprattutto ha dato una visione nazionale e internazionale importante per la propria città. E credo che Rocco Sifredi incarni pienamente questo obiettivo. Lo scorso anno è stata particolarmente, la manifestazione della quale stiamo vedendo le immagini appunto dello scorso anno è stata particolarmente dedicata alla pandemia. Ecco, parliamo anche di questa serata importante condotta dal direttore di Rete8, Carmine Perantuono. Sì, diciamo tutta la giornata parte dalla mattina con il ricordo appunto del 28 dicembre, con la deposizione della corona, con una messa celebrata dal vescovo Emilio Cipollone. Come tutti gli anni, nel pomeriggio verranno premiati i ragazzi delle scuole superiori che hanno ottenuto il massimo dei voti, poi ci sarà un intrattenimento musicale con il maestro De Grandis e a seguire il conferimento di questo premio a Rocco Sifredi. Nella serata invece viene toccato un altro argomento molto attuale e importante perché la città di Ortona dà un giusto riconoscimento all'Ucraina con il concerto dell'orchestra sinfonica appunto dell'Ucraina.